Musica Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, io sono Blaziken68 e benvenuti in questo nuovo video Allora raga, proprio ieri ci trovavamo a parlare del nuovo DLC di Dragon Ball, ovvero il DLC Pack 3 Bene ragazzi, paradossalmente quest'oggi torniamo a parlare di nuovo dello stesso argomento Perché sono in pratica uscite delle nuove immagini e diciamo Bandai Namco ha ufficialmente confermato questo DLC Vi leggo quindi cosa troveremo giocabile E intanto ovviamente voi state vedendo in questo momento le immagini che sono state ovviamente ufficializzate Allora, troveremo 4 personaggi giocabili, ovvero Super Saiyan God, Super Saiyan Goku Super Saiyan God, Super Saiyan Vegeta, Golden Freezer e Yako The Galactic Patroller Poi troveremo 5 nuove quest parallele, 2 nuovi maestri, ovvero Yako e Kaioshin il sommo ragazzi Kaioshin il sommo Non vedo l'ora di conoscere che mossa ci insegnerà Kaioshin 8 missioni ovviamente di questi nuovi maestri 14 nuove mosse, 2 nuovi costumi e 2 nuovi accessori Ovviamente della data di uscita ancora non si sa niente Io vi terrò costantemente aggiornati sia su nuove immagini, su nuove informazioni e sulla data di uscita Quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Io vi ricordo come al solito di lasciare un mi piace e noi ci vediamo nel prossimo video